Ladies and gentlemen, ho il piacere ora di introdurre nel nostro studio una mamma e un figlio, una mamma e un figlio, una moglie e un figlio sono Luca Manfredi e Dermina Manfredi Viva, viva, santo e servio, un cammino dell'anima mia, viva, viva Ma che belli che siete! Siamo bellissimi Luca che bello che mi hai portato la mamma Accomodatevi Grande Nino Grande Nino E grande sì Viva, viva santo Eusebio, questa è la colonna sonora di Per Grazia ricevuta Film, capolavoro, se non l'avete visto lo dovete non vedere, rivedere che è stato peraltro celebrato alla festa del cinema di Roma, alla mostra del cinema di Venezia Di Venezia adesso la copia restaurata è stata presentata in apertura del festival e io me la sono goduta perché era un po' che non la vedevo, bellissima Film straordinario dove tu a lui hai recitato in realtà con la comparsa Ho fatto una comparsa perché ero ragazzino, ero interessato alla paga giornaliera della comparsa insomma Erminia è entrata e ha detto ciao Nino E certo, guarda lì, mi sta sorridendo e quindi c'è il saluto che uno non lo sente, ma io sì Tu lo senti il saluto di Nino? Come no? 50 anni di matrimonio Mi dice anche tutte le mattine buongiorno Sì, eh? Sì, mi saluta anche la sera Hanno un dialogo diretto che non si è mai interrotto Vai, vai 50 anni di matrimonio peraltro, però Continua, eh E che cosa ti dice Nino? È contento, è contento come lo penso, come lo omaggio, quanto continuo a volergli bene Ma questo insiste, l'aiuto siciliano Ma come insiste? Dopo la raccontiamo la storia del vostro grande amore Torno un attimo su Per Grazia ricevuta, che è un film, ripeto, bellissimo Sì Questa è la scena della processione, no? Viva viva Sant'Eusebio, protettore dell'animamia C'è questo ragazzino che è scampato a morte certa perché è caduto da un dirupo È stato miracolato Miracolato E questa storia del miracolo, che poi è un racconto delle cattive superstizioni Che possono inficiare la vita di una persona Ricorda in qualche modo però quello che accadde a tuo marito e a tuo papà Perché lui da bambino, ce l'avevi raccontato l'altra volta È rimasto tre anni in un sanatorio In un sanatorio e quindi è stato in qualche modo miracolato Perché lui è entrato in sanatorio a 15 anni È rimasto più di tre anni in sanatorio E ha assistito alla morte di tutti i suoi compagni di camerata Lui che non era credente, che non andava con i compagni a pregare nella cappella del Forlanini È stato l'unico risparmiato dalla mattia E quindi da quell'esperienza ha cominciato a farsi delle domande Che poi sono sfociate in questo suo film autobiografico È il suo film più importante come autore e interprete Che poi inizia il Festival di Canco alla Palma d'Orna nel 1971 Ma te la raccontava questa storia del sanatorio, Erminia? Ma non mancava, figuriamoci È stata la tragedia della sua vita Quindi vuoi per la storia, vuoi per l'altra, ritornava fuori E tu ti sei innamorata anche un po' di questa tristezza? Di questa tristezza? Io mi sono innamorata della completezza di Vino Non di questa tristezza No, perché comunque diciamo L'essere sopravvissuti ha una simile vicenda Tre anni in un sanatorio Peraltro Luca mi raccontò questa storia atroce Che un giorno gli fecero uno scherzo Sì, si facevano anche gli scherzi Perché in qualche modo erano dei sopravvissuti Quindi ci giocavano pure Giocavano in modo terribile Perché lo circondarono con i paraventi I paraventi, sì Lui credette di essere morto Lui parlava, nessuno gli rispondeva Non posso immaginare Loro in qualche modo avevano cercato di esorcizzare la morte Che condividevano con gli amici tutti i giorni E ci scherzavano sopra Cioè addirittura loro che non potevano fumare Scommettevano delle sigarette Su chi era il prossimo a morire Quindi questo era un po' il clima del sanatorio C'era una sorta di esorcismo della morte E Nino ha sempre fumato peraltro Sempre E tu non gli dicevi smetti? Era inutile Era inutile dire smetti Se non smetteva da solo per tutto quello che aveva subito Che glielo diceva a fare? Anche vero questo In arte Nino vediamo una clip dal film che tu hai dedicato a papà 2017 Ma il professore invece com'è che ne è arrivato ancora? Magari è morto pure lui Sì Sì e quanto mori quello là? Che succedeva? Ah? Che fu? Inciampato dal suo bastone fu il professore? È uguale Come è che fa? Vergara e Capuona Hanno insegnato a tutto il mondo Ma voi Del verismo Che ne sapete? C'ho paura di morire Questo lurido mondaccio Non è poi così malaccio Quasi quasi Io resto qui C'ho paura di morire C'ho paura di morire E questo era il sanatorio Sì Tu ti stai riappropriando della memoria di papà un po' alla volta È come se più lo racconti più te lo ritrovi Te lo riprendi Sì È stato sommerso Luca dalla storia di Nino Cioè? Non c'era un momento che lui non ci raccontasse veramente la tragedia che aveva superato Ma pensi che l'avere un padre così importante anche necessariamente ingombrante Possa aver, diciamo, in qualche modo influenzato sicuramente, no? Però, insomma, inciso molto sulla vita di... Ingombrante mai Mai? Perché? Perché non c'era? Perché era più a sempre? No, c'era, ma non era ingombrante No? Ma poi posso dire di Nino Manfredi Di questa meraviglia che era Nino Manfredi ingombrante Perché lo era ingombrante? Sì, sono d'accordo in parte Sicuramente avere un padre, un grande padre come Nino Sicuramente è una cosa molto impegnativa Cioè nel senso che se tu poi non sei abbastanza forte e strutturato Da sopportare nel peso rischi di rimanere schiacciato Tu lo eri? Lo sei stato? No, per fortuna C'era mamma Sono riuscito, diciamo, a essere abbastanza forte da sopportare nel peso, insomma Però da ragazzino so che tu non volevi, non ti piaceva che ti dicessero il figlio di Nino Manfredi No, io ero molto timido e quindi nelle occasioni, diciamo, pubbliche in cui mio padre andava a ritirare un premio Io non gradivo che lui mi chiamasse sul parcoscenico Glielo dicevo sempre Dico, per favore, non mi chiamasse sul parcoscenico perché io non ho voglia di... E lui puntualmente me lo faceva apposta E mi diceva, c'è anche mio figlio Luca, vieni Luca, vieni sul parcoscenico E quindi io mi arrabbiavo moltissimo E perché lo faceva secondo te? Ma lo faceva un po' forse per stimolarmi, per spingermi e per farmi vincere questa mia timidezza Che poi tra l'altro lui era un grande timido Eh sì Era un grande timido che ha vinto la sua timidezza attraverso lo studio della recitazione Attraverso l'interpretazione di un personaggio che non era lui E peraltro, ricordando anche per Grazia Ricevuta e tanti altri film C'era questa disillusione, no? Di fondo Ma non c'era mai cinismo Cioè c'è sempre un elemento di poesia nei personaggi che lui ha portato sullo schermo E di quello gli siamo grati Hai detto una bella cosa Perché mio padre nei suoi personaggi è riuscito sempre a unire queste due anime È un'anima più lieve e ironica che ti strappava un sorriso È un'anima più malinconica, a volte drammatica, che ti faceva riflettere Ma senza quel cinismo che a volte caratterizzava i personaggi di altri bravissimi attori Come Gasman o come Sordi, no? Che avevano un altro tipo di caratteristica Nino è sempre stato, come il suo grande mito Cerly Ceprin, il portatore di una risata amara Non lo sapevo E a mio avviso è stato un po' l'interprete dell'italiano medio Nel senso migliore di questo termine Non compiaciuto, ma profondo Non compiaciuto, sì Non compiaciuto dei difetti E devo dire che quando sono arrivati mamma e figlio Io ho detto quant'è bella Erminia Che ha, possiamo dire quanti anni hai? Io sono del 31 Il 31 e quindi il 4 novembre fa 90 anni Ma veramente, chapeau E Nino, è Nino che mi è mantenuto così Sì? È certo Io ho detto quanto è bella E Luca, devo dire, ha detto è bella la mamma, vero? Ed ho trovato una cosa proprio tenerissima Come ha fatto Nino a mantenerti così? Perché sappiamo anche un po' di cose di Nino Che era un po' scavezzacollo Beh, scavezzacollo Le ha dato da fare, diciamo Sì, ma dipende Può darsi che invece mi divertissi tanto Raccontacelo Eh, raccontare Nino una cosa No, raccontaci cos'è che ti faceva divertire di lui Beh, per l'attenzione che mi creava L'attenzione? L'attenzione L'attenzione Che mi creava Quindi di come faceva? Perché stare con Nino era molto interessante Sì, era un essere normale Ma lui era rivolto verso di te O eri tu a essere interessato a lui Perché era una persona complessa, nel senso articolata Io ero molto interessata a lui Io ero molto interessata a lui Ma lui ha brigato tanto con Rosi Bonagura Per conoscermi Cioè? Raccontamela Rosi Bonagura mi parlava sempre di Nino E io continuavo a dire a Rosi Stai tranquilla Ma buon attore mi porti avanti Poi andava a parlarne con Nino E Nino ha cominciato ad incuriosirsi Eccoci qua Questa vostra amica comune Sì, forse bisogna raccontare meglio Cioè, Rosi Bonagura era la direttrice della sortoria di Capucci Lei era Moglie di Bonagura Moglie di Gianni Bonagura Compagno d'Accademia di papà Ok Siccome papà all'epoca era un po' uno scavezzacollo Diciamo, era un po' una mina vagante Dal punto di vista sentimentale A un certo punto Rosi e Gianni hanno deciso Di sistemarlo Di mettergli la testa a posto Hanno detto Ti dobbiamo presentare una donna Che ti mette la testa a posto E hanno presentato Erminia Ma Erminia all'inizio non ne voleva sapere Lei faceva, ricordiamolo, l'indossatrice L'indossatrice In questa misola di moda Famosissima Famosissima Quando lei ha saputo che Nino era un attore Ha detto per carità Un attore che rappresentava il massimo dell'inaffidabilità Anche perché, posso aprire e chiudo parentesi Era successa una cosa che ti aveva anche molto segnata Che tu hai raccontato Cioè il tuo fidanzato Aveva truffato Ma quello lo dimutichiamo Lo racconto perché comunque C'era stato un fidanzato che l'aveva truffato Il papà di Erminia Il papà di Erminia è stata vittima di una truffa Di questo Pasquale Foti Che si era dileguato Con tutti i risparmi di mio nonno Per cui loro si sono trovati In una situazione di grande difficoltà E mia mamma ha dovuto rimboccarsi le maniche E si è messa a lavorare da Capuccio E questo lo dicevo solo per far capire che Erminia non aveva voglia di perdere tempo No, no Avevo tanto da fare Perché dovevo pensare come aiutare la mia famiglia E ci sono riuscita Lavorando sempre Certo Perché c'è qualcuno che viene regalato Ma nessuno Non ho per guarda Ti preoccupaccio Hanno mai regalato niente Non mi preoccupo per niente Per capirci quindi Alla fine organizzano questo appuntamento Sì Giusto? Sì Tu lo vedi dove entrare in un ristorante Arrivare con la macchina Qual è stato il primo impatto con Nino che hai avuto? No, io facevo Facevo Partecipavo a questo spettacolo A Milano Lui ti invitò a cena a Milano E appunto Cos'era la biffi? Non mi ricordo Vabbè Ma qual era? Dove mio padre era preoccupatissimo Sul come pagare il conto dopo Insomma Si faceva i conti Però voleva fare bella figura Lei era un po' sulle sue Perché era diffidente Perché riteneva che un attore fosse Di natura inaffidabile E quindi l'ha tenuto un po' a distanza Poi Nino Ha perseverato in questo corteggiamento Si fece prestare Perché lei stava facendo un spettacolo di rivista Con Walter Chiari Dove sfilava con I costumi di Capucci Di Capucci E mio padre venne a sapere Che poi avrebbero fatto Un'ultima serata a Napoli Si fece prestare La macchina da Paolo Ferrari E andò a trovarla a Napoli E lì In qualche modo No capì che Paolo Ferrari Aveva come fidanzata Marina Bonfigli Marina Bonfigli E quindi disse Andiamo insieme a Napoli E tutto lo si è ritrovato a Napoli Si In qualche modo si dichiarò Ma all'inizio ti aveva colpito In questa prima cena? Ma mi aveva colpito L'attenzione era totale Perché conoscere Nino Ne faceva e ne diceva di tutte Ma tipo? Eh tipo Ma io mi ricordo che faceva Lei disse che faceva un po' troppo lo spiritoso Ah quindi Un uomo brillante quindi Per cercare di farla ridere Faceva un po' troppo lo spiritoso E tu ridevi? Eh dipende Dipende Se quello dipende Secondo quello che gli veniva fuori Però all'inizio insomma Era il più dubbio E quando è che hai capito Che sarebbe stato l'uomo della tua vita? Ma lo capisci mano a mano Non è che Ah ok Appare uno Questo è l'uomo della mia vita No Quando è che ti sei fidata? Che hai capito che potevi fidarti? Mano a mano Mano a mano Che imparavo a conoscerlo Perché imparare a conoscere una persona Ce ne vuole Imparare a conoscere un attore Ce ne vuole di più Eh sì Però il suo essere tante personaggi Ti attirava perché non ti annoiava mai probabilmente Assolutamente Ma io non mi sono mai annoiata Mai nella vita Figuriamoci poi con Nilo Allora lo vediamo nel Padre di Famiglia Regia di Nanni Loi Grandissimo film anche questo Fantastico Buongiorno La volete favorire? Grazie Grazie Vieni dentro Milo Che qui dai fastidio Che hai in mano? Niente Ne ha voluto un pezzetto Lo sai che non si deve mai chiedere? Non sta bene E poi perché lo chiedi se non lo mangi? E tu che fai lì? Sono caduta e mi sto raccogliendo Ah brava brava Ciao Paola Come mai così presto amore? Non dovevi andare da zarto? Eh sì Però mi sono accorto Che non avevo più l'assegno che mi hai messo in tasca ieri mattina Allora l'hai perso? Forse Beh o sì o no? Ma non lo so Può darsi che sia rimasto nell'altro vestito Oppure Qui nel tuo studio Era pure in bianco Se qualcuno lo trova Ci può scrivere sopra la cifra che vuole Anche un milione Eh? Ma se abbiamo soltanto 300.000 lire in banca? Meno male va Sono contento Che? Bello anche Beh se posso permettermi Questo è il film che rappresenta meglio di tutti Un po' quello che è successo a casa nostra Questo film si chiama Il padre di famiglia Interpretato da mio padre Da Leslie Caron Attrice straordinaria Dove poi il vero padre di famiglia non era lui ma era lei E questo è un po' successo a casa nostra Cioè quella che è stata un po' il puntello della famiglia Che ha tenuto insieme i pezzi della famiglia Nonostante le crepe che via via si formavano È stata Erminia Quindi dobbiamo dare atto a Erminia Che è stata quella che è riuscita a tenere insieme i pezzi della famiglia Bisogna appunto essere allenati E poi dire a se stessa O dire a me stessa Che cosa conta nella vita E quindi imparare a conoscere un attore Perché già imparare a conoscere una persona ce ne vuole A conoscere un attore E tu hai scoperto in tutti questi Vi siete sposati nel 55 Sì In tutti questi 50 anni insieme Tu hai scoperto anche dei tradimenti Ancora oggi sono insieme Ah certo hai ragione scusami Non volevo dire una cosa Ho detto una cosa sbagliata Non è finita Non è finita No E dico però hai scoperto anche dei tradimenti Cioè lui ti ha tradito Ma i tradimenti Ma sono tradimenti Non lo so raccontamelo tu Eh no bisogna conoscere le persone Perché non è che tu sposi Nino E quello è tuo E te ne appropri Eh no Devi imparare a capire la sua indole Per cui tu E non era copia carbone E quindi se tu Se lui faceva qualche scappatella Tu te lo raccontava Lo scoprivi Ma si capiva Da cosa Dagli atteggiamenti Eh da quello che diceva Alla fine si capiva E quando lo capivi Visto che è un attore L'attore lo capisci Vai a teatro Cerchi di capire Certo In qualche modo Cercava sempre una soluzione No Ok Quindi si faceva scoprire Diciamo che Mio padre è uscito dal sanatorio A 18 anni Con un'aspettativa di vita Di 2-3 anni Cioè il primario Disse a mia nonna Questo ragazzo è molto forte Se si riguarda Potrebbe vivere altri 2-3 anni Quindi mio padre ha sentito il bisogno Di viverla la vita più che poteva Consumarla questa vita Eh fumando Tutte le esperienze possibili Addirittura fumando Quando erano in sanatorio Malati Fumavano di nascosto E addirittura scommettevano Le sigarette su chi era il prossimo A morire Quindi pensa che rapporto Devano stabilito con la morte E quindi diciamo Nella dinamica dell'amore Che legava i tuoi genitori Un sopravvissuto Poteva anche permettersi Di divertirsi Perché comunque tornava sempre qui Esatto Diciamo che poi è diventato Un po' un alibi Per mio padre Però per lei Lei mi sembra molto tranquilla Lei tranquilla Mio padre si è un po' approfittato Di questo alibi Tranquilla Non credo Perché mi devi stare attenta E se sei attenta Vieni presa dall'attenzione Quindi tranquilla Ma lo è vero Lo chiamavi Zorro? Zorro Ah nel senso del freccio La sigla Colpiva eh Sì Ma lui poi ti chiedeva scusa Chiedeva perdono No Ma queste cose Sono novella duemila Perdono Scusa Devi vivere la tua vita E devi capire Che l'altro è una persona Non è che Una cosa Che tu l'hai impastata Ed è tua Perché io dico Il pane Fai il pane E tu E a te non ti è venuto mai in mente Di tradirlo? Ma perché? Non l'avrei dovuto No Una domanda Anche solo per Così Per reazione No No Perché se Non gradivo i tradimenti Non mi mettevo Nella stessa situazione Però papà l'ha resa felice Assolutamente Ma io credo che mio padre Anche artisticamente Si sarebbe perso Cioè non avrebbe fatto Quello che poi ha fatto Se non avesse avuto poi Tranquillità Erminia vicino Eh sì Il puntello di Erminia Anche perché sappiamo Che aveva sofferto di depressione Insomma Assolutamente Ovviamente ha avuto anche Dei momenti di calo Della propria Vitalità Sai la depressione È insita In un attore Perché? Eh Nessuno Pirandello ci lo racconta In tutti i modi Uno nessuno Centomila Quindi devi indovinare Ma chi è? E questo ti ha tenuto A vinta Come l'edera Abbiamo il piacere Oggi di avere Ospiti La terza generazione Perché sono collegate Con noi Margherita E Matilde Manfredi Ma che belle Dove stanno? Ma la bellezza assoluta Va precisato che Luca Tu hai quattro figli Da tre madri diverse Io ho una specie di tribù Pure tu Diciamo Non ti sei fatto manca niente Niente Allora Papà E con i racconti Anche di nonna In continuazione Comunque un po' La sua vita Poi anche il film Che ha fatto papà In Artenino Ci ha spiegato Un po' Una parte Della sua vita Sì Adesso diciamo La vita giovanile Ce l'ha raccontata Appunto Il film in Artenino E poi Attraverso Racconti Di papà E di nonna E anche Magari Delle zie Sappiamo Cioè Sappiamo diverse cose Magari Scene divertenti Abbiamo ricostruito La sua vita Insomma Sto cercando la somiglianza E devo dire che gli occhi L'arco sopraccigliare Sono manfrediani Sono manfrediani totalmente C'è un film che avete visto Che vi ha colpito particolarmente? Sì Loro sono patite Allora Io da piccolina Ero follemente innamorata di Pinocchio Certo Chiaro Mi ha fatto Mi ha fatto sognare questo film L'hanno visto cento volte Sì E a me piace molto Brutti, sporchi e cattivi Hai detto poco Un personaggio difficile Mi piace la storia Mi diverte Che per loro Loro hanno molto amato Mi diverte molto E lo vedono in continuazione Nonostante sia un film Abbastanza duro e difficile Certo Certo Io non lo so Non lo so Però diciamo che Mi piacerebbe fare la regista Io invece l'attrice Mi sembra perfetto Loro hanno già fatto Delle esperienze Manca la sceneggiatura Esatto E abbiamo già fatto Il lungometraggio Beh loro hanno già fatto Due o tre serie televisive L'ultima è stata Che Dio ci aiuti Quella con Elena Sofia Ricci Che fa la sua ora È stata un'esperienza Molto importante per loro Però diciamo ancora Non hanno le idee chiarissime Matilde è più Propensa per la regia Margherita più per la recitazione Vedremo E papà come si comporta? Eccezionali Beh quanto sei orgogliosa Erminia di tutte le tue nipoti? Come? Quanto sei orgogliosa? Tantissima Non avrei avuto Sì meglio di quello Che sono loro Dico papà invece come si comporta? Papà Papà è un Mi tappo le orecchie È un coccolone Si fa brava Papà è un bravissimo papà Ed è un bravissimo regista Si impegna molto Avete capito? È andato bene Ci affudisce tantissimo Insegnamento di Nino Perché Poi ovviamente Ognuno ha i suoi difetti Eh beh certo Dimmene uno allora Dai È un po' scorbutico È un po' scorbutico È molto pignolo Ci riproverà sempre Perché io e Matilde Non siamo il massimo De Non siamo molto ordinate Non siamo? Molto ordinate Molto ordinate Vabbè non ti preoccupare Il disordine È la virtù dei creativi Senti Luca Sei stato Delle volte ci hai raccontato Di Nino Che comunque per gli impegni È stato comunque un papà Anche di un'altra generazione Quindi più assente Tu hai cercato di essere diverso Da papà O C'è anche nitrosie Le hai tenute Il fatto che ti hanno Biano definito Come primo aggettivo Com'è che hanno detto Coccolone Coccolone Eh sì Dai già Siamo proprio Una modernità paterna Ma io Ho scritto un libro Recentemente Sul mio rapporto Con mio padre Che è un freccico nel cuore Dove ovviamente Racconto anche Questo abbraccio Che spesso mi è mancato Con mio padre Cioè mio padre Essendo molto impegnato Con il suo lavoro Non è mai venuto A prendermi a scuola Non ha mai assistito A una mia gara sportiva C'era mamma? No Non c'era manco la mamma No 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 Venivo sempre a scuola No 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 Sì lei veniva a scuola Diciamo però Le stanno scuola svizzera Le mie gare Diciamo a questi eventi Neanche lei Perché era molto assorbita Anche da Nino Certo Quindi io ho cercato Poi da genitore Di invece fare Diversamente Cioè di essere Un pochino più presente Alle loro attività Chiedilo un po' È presente È presente Perché la nonna Lo mette in dubbio No ma guarda Se c'è una cosa Che Se c'è una cosa Che Avendo io una famiglia Molto complessa Perché è una famiglia Allargata Tre madri diverse Io ho quattro figli Da tre mamme diverse Se c'è una cosa Buona che mi riconosco Che sono riuscito A farli vivere Crescere insieme In questa casa Di campagna Che io ho in Umbria Che è un po' Il nostro posto Di riferimento E quindi Loro hanno passato Gli anni Con i loro fratelli Più grandi In questo posto E non a caso Sono molto legati Noi domani Per esempio Andiamo a pranzo Tutti insieme E quando si riesce A trovare questa armonia Davvero Insomma Abbiamo vinto Ecco Uno Nessuno Cento Nino La campagna Le origini contadine Di Nino Che era Ciociaro Io lo dico anche Con un po' d'orgoglio Perché i miei nonni Materni Erano Ciociari Per cui Quando ero ragazzina Mi dicevano Per me Nino Manfredi Appunto era Il fiore della terra Come Vittorio De Sica Del resto Altro Ciociaro Certo Originale Ciociaro Lo ascoltiamo In questo documentario Che tu sempre Dedicato a papà Nino viene dalla Ciociaria Ciociaria terra Di emigrazione Nella famiglia Di Nino C'è Una grossa presenza Di emigranti Nonno c'è stato 32 anni In America Ha detto Scombardanni Potuti Quando gli domandavo Nonno Ma com'è la America E chi l'ha vista mai Ma anche se c'è Stagli suve Questa è bellissima È bella Ma hai detto Che lavorava in miniere Quindi Lavorava in miniere Quando lui andava a lavorare Il solo ancora Si doveva alzare Quando io vado a lavorare Questo è ancora Io lo sa Quando io sono venuto a lavorare Questo è il suo Ciaro doc Allora Memo Cosa vuoi dedicare A Nino Carolina Cosa ci fate ascoltare Beh abbiamo scelto Una canzone Tra l'altro Bellissima Che Nino ha inciso Perché ha inciso Tante canzoni E questa trovo Che sia straordinaria Poi ho dei ricordi Fantastici di Nino Perché quando veniva Serena a lavorare A Milano Veniva spesso A casa mia a cena Vero Erminia? È vero È verissimo Perché era un golosone E la moglie Cucina molto bene Allora Questa canzone È intitolata Che bello Sta con te Che bello Sta con te Mi sembra De volare Che bello Quando attero E tu sei qua Sta vita Non c'è più Ermonno È un po' più in là Se senti un botto Non te preoccupa So io Che ho preso In piena Faccia Il cielo So io Che so caduto Da un pensiero So io Che ci speravi Quasi più E un giorno All'improvviso Che bello Che bello Stare con te Mi sembra De sognare Mi pare pure Sta realtà C'ho voglia De scherzare De ride De pensare Che poi domani Forse Chi lo sa Che bello Che bello Che bello Stare con te Ma che bravi Che bravi Davvero Che bravi Ma Nino Ti cantava Ti cantava canzoni Era romantico Sì 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 Assolutamente E tu eri un po' geloso Del loro grande amore No Felice La loro simbiosi No Lui era poi Il mio maschietto Preferito Il mio maschiaccio Allora io vi ringrazio Davvero per essere stati con noi E vorrei chiudere Grazie a voi che vi ricordate di Nino E parliamo di Nino Torna quando vuoi Voglio dire una cosa Che ho letto in un'intervista Che tu hai raccontato Che quando Nino era in ospedale Sì Negli ultimi giorni Della sua malattia Certo E siccome aveva questo sguardo Sempre sul gentil sesso Molto diciamo così affettuoso Entrò una bella infermiera E lui disse Lui si ingalluzzi Si è rianimato E la cosa bella dell'amore Che è veramente la prova d'amore Che lei invece di essere gelosa No Ha pensato Si è rianimato Quindi è il felice Della sua felicità Certo È vivo Certo È vivo È ancora vivo È certo E io questo lo trovo veramente Una grandissima prova d'amore Auguro a tutti di amarsi l'un l'altro Come si sono amati E Remiglia E Nino Se tu ami una persona La vuoi vedere felice? No Non solo Ma non è una Una borsa Dice la borsa è mia La persona è piena di sfaccettature Ed è molto bello Imparare a conoscere Tutte le sfaccettature Specialmente di un artista Che sono all'infinito Salutacelo Nino Quando ci parli Domattina Quando lo saluti Ah sì sì Dici guarda C'è Serena Oggi è un altro giorno Che ti saluta Io non aspetto domani mattina Stasera lo vedi? Sì certo Allora stasera Quando torni a casa Salutacelo Ciao Matilde Ciao Margherita Ciao Buon vento Ciao Luca Anche tu ci vuoi raccontare